Riteniamo che anche la cittadinanza che risiede nel periferimento delle frazioni abbia diritto a vivere bene come qualità della vita e avere gioco a disposizione per i propri bambini è sicuramente una cosa positiva. E così il Partito Democratico Aretino chiede all'amministrazione comunale una maggior cura ed attenzione alle aree verdi e agli spazi per il gioco dei bambini, soprattutto nelle frazioni. Come segreteria comunale abbiamo infatti accolto la segnalazione di numerose famiglie che appunto ci hanno fatto notare quanto i parchi dei quartieri cittadini siano scarsamente manutenuti per cui abbiamo fatto dei sopralluoghi e chiesto all'amministrazione comunale di porre maggiore attenzione sia per quanto riguarda appunto la manutenzione sia per il rinnovamento degli arredi urbani. Abbiamo già un progetto per quanto riguarda per esempio la zona Catona dove abbiamo chiesto nell'area verde davanti alla scuola Leonardo Bruni di installare degli impianti elettrici appunto per illuminare il parco perché il parco era completamente al buio e abbiamo chiesto inoltre di completarlo con dei giochi e quindi con arredi per l'infanzia. È stato fatto questo in parte per cui chiediamo all'amministrazione comunale di proseguire in questo lavoro. Una richiesta che passa tramite un atto di indirizzo presentato dal capogruppo Donato Caporali assieme a Sara Cherici, Andrea Gallorini e Valentina Vaccari. Noi chiediamo che l'amministrazione ponga l'attenzione anche sul tipo di giochi che vengano inseriti all'interno delle aree verdi. I giochi vogliamo che siano inclusivi, che siano accessibili a tutte le tipologie di bambini, magari dei giochi che possano stimolare la manipolazione, la motricità e poi chiediamo che questa attenzione non sia data soltanto diciamo alle aree verdi della città ma siano estese anche in varie parti nelle periferie della nostra città. E infine sempre lo stesso Partito Democratico a chiedere all'amministrazione comunale di individuare i aree cani, anche in questo caso soprattutto nelle frazioni.